Tre donne, delle quali una incinta, picchiate e maltrattate in poche ore in ossole. I carabinieri hanno rispettivamente arrestato e denunciato due uomini. Il primo caso a Bagnoanzino, dove i militari della locale stazione hanno arrestato in fragranza di reato un 54enne che si è presentato a casa della ex convivente picchiandola nella serata di sabato. Si tratta dello stesso uomo già arrestato il mese scorso, sempre dai carabinieri, per lo stesso motivo. Questa volta il soggetto era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma e dell'allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex. Sabato sera, dopo essersi recato al comando stazione Carabinieri per ottemperare gli obblighi di firma, ha abusato di sostanze alcoliche presentandosi successivamente a casa della ex convivente, dopo essere riuscito a farsi aprire la colpita con calci e pugni minacciandola di morte. È stato un vicino di casa a cui la vittima si era rivolta in cerca di aiuto a chiamare i carabinieri che sono prontamente intervenuti, rintracciando l'aggressore poco distante dal luogo del fatto. Nonostante l'uomo avesse inizialmente dichiarato ai militari di non aver fatto nulla di male, i carabinieri sono riusciti a ricostruirne agli spostamenti e a dimostrare l'aggressione nei confronti della donna, visibilmente ancora scossa. Per fortuna non ha riportato gravi lesioni, non ha voluto andare in ospedale. L'uomo al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto e portato in carcere a Verbagna e dovrà rispondere di violazione del provvedimento di allontanamento, del divieto di avvicinamento e di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il secondo episodio si è verificato sempre sabato a Villa Dossola, dove i militari della locale stazione hanno denunciato un giovane dopo l'aggressione alla sua ex compagna e alla sorella incinta. La ragazza, residente fuori provincia, era arrivata per trovare proprio la sorella ed è stata aggredita per strada dall'ex fidanzato, un giovane del 95, già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, al culmine di una lite, l'ha colpita con calci e pugni e poi ha aggredito anche la sorella della vittima, sebbene in evidente stato di gravidanza, che aveva cercato di interrompere il pestaggio. Proprio quest'ultima è riuscita a chiedere aiuto al 112. I carabinieri sono arrivati sul posto, ma il giovane si è dato alla fuga. È stato poi rintracciato, identificato e denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Le due donne, per fortuna, non sono in gravi condizioni.